Nonno, mi racconti una storia? Ne vuoi una bella o una spaventosa? Sai chi sei? Chi sono? Sono un uomo. Più nel dettaglio. Un padre. Un nonno. Un polizio. Un vedovo. Finalmente ho trovato il coraggio di impacchettare tutte le sue cose. Sono in quella scatola. Hai mai tradito Ingeborg? E perché me lo chiedi? Ho sempre avuto la sensazione che mi nascondesse qualcosa, che c'era qualcosa che non mi diceva. Pronti? Sì. Ci sei, Ingeborg? Mi senti? Credo che ti possa essere d'aiuto praticare più autocompassione. Ho sentito urlare Jossi. Lo hai ucciso. No, certo che no. Mi sembra che tu sia un po' troppo autocritico. Quando amiamo veramente qualcuno con tutto il cuore, faremmo di tutto per non ferire quella persona. Smettila! Come descriveresti un giorno perfetto. Ingeborg rispondevi nella casa. Un giorno perfetto. do dem life che Grazie a tutti.